Fratelli e sorelle bianconeri finalmente sembra che ci sia il famoso piano B per porre fine a questa stagione nel caso di ulteriori contagi o ulteriori intoppi, decreti governativi, protocolli eccetera eccetera. Il famoso piano B che la Lega e la Federazione non avevano sembra che finalmente ci sia, ora non so quanto sia attuabile, quanto sia magari perfezionabile però il piano B sarebbe questo. Nel caso la data per ripartire sia troppo in là con i mesi, magari fine giugno, oppure nel caso che ci sia il famoso contagio, la famosa squadra in quarantena, insomma l'impossibilità di finire un campionato una volta ripartiti, l'impossibilità di finirlo per un nuovo stop, questo famoso piano B prevederebbe playoff e playout. Bisogna solamente definire il numero di partecipanti all'eventuale lotta a scudetto, lotta Europa League, lotta a salvezza. Ci sono le ipotesi più disparate, c'è chi dice di fare playoff a quattro squadre, che forse sarebbe la cosa più giusta, c'è chi dice che si farà a sei, c'è chi dice a otto, addirittura a dodici squadre. C'è l'ipotesi più probabile di farlo a sei con le prime due già in semifinale, cioè Juve e Lazio e mi viene da ridere ragazzi, scusate perché veramente dare la possibilità a Roma e Napoli di vincere il campionato dopo che sono a 30, 25, 30 punti di svantaggio non lo so manco io, veramente una cosa comica. Ragazzi io sono tra quelli che dice sì proviamo a ripartire come tutte le aziende, come tutte le aziende perché il calcio è un'azienda, come tutte le aziende d'Italia proviamo, proviamo a ripartire piano piano, l'Italia prova a rialzarsi anche attraverso il calcio, proviamo a ripartire ma tutto c'è un limite. Non bisogna troppo forzare la situazione come la vedo io, ci proviamo sì, però a un certo punto se proprio non si può, io l'ho sempre detto, con tutto il danno economico che ci sarà, ma perché non si pensa semplicemente a organizzare la prossima stagione nel miglior modo possibile, con incastri di date, con metodi per lenire la crisi, magari per degli aiuti finanziari alle squadre, insomma perché non si pensa alla prossima stagione che porta ad europei a olimpiade, le date sono quelle che sono e si vuole forzare troppo. Perché i playoff mi sembrano una cosa così assurda nel mondo del calcio e ve lo dice uno sportivo che segue tanti, tanti, tanti di quegli sport, il basket, i playoff sono meravigliosi, nel volley, ci sono sport dove i playoff sono veramente l'adrenalina pura, il calcio però non è nato con i playoff ragazzi, la cultura calcistica è diversa, ci vorrebbero secoli per inculcare la cultura calcistica dei playoff ai calciofili, capite? Perciò si farà solamente danno con questi playoff e playout, si farà semplicemente danno, perché non uso immaginare cosa succederà con il Napoli o con la Roma che imbroccano le partite giuste e diventano campioni d'Italia, o la stessa Inda, gli stessi prescritti cartonati che magari con due o tre partite di culo potrebbero vincere benissimo un campionato, ora ragazzi, se proprio volete uno scudetto, prendetelo, abbiamo 300, ve lo regaliamo pure, ma sta forzatura per forza di dover concludere la stagione, noi ci proviamo, si riparte, anche per le tv, per i soldi, per non far fallire tante squadre, per l'amor di Dio, ma se proprio non si dovesse riuscire, se ci dovesse essere un'altra interruzione, ma prendete, sorteggiate, sorteggiate i bussolotti, fate bigliettini, sorteggiate, dategli lo scudetto a qualcuno così, lo preferisco, lo preferisco, ma ve ne diamo anche tre, quattro, cinque, quanti ne volete, ma i playoff mi sembra una cosa così, e ripeto ve lo dice uno che ama i playoff negli altri sport, sono veramente lo spettacolo puro, ma il calcio non è pronto, il calcio, la serie A non è pronta per questo, e mi sembra tutto così, bah mi sembra fumo, eppure si sta concretizzando, sembrava così lontana, questa ipotesi invece si sta concretizzando, questa idea di finirla in questo modo, poi boh, ragazzi non lo so, poi fate voi, ditemi voi cosa ne pensate, in ogni caso, oggi ragazzi vi dico una cosa, 22 maggio, 22 maggio, 22 maggio, cosa vi ricorda? No, non sto parlando del rublete, quella è un'altra cosa, sto parlando della nostra ultima Champions, Sì, oggi sono giusto 24 anni, ragazzi, forse ora, forse ora di darci una svegliata e di vincerne qualcun'altra, che dite, eh? Cominciano a diventare tanti, eh? Ragazzi, mi raccomando, vedrete.